E la gente si sta allontanando, si sta allontanando un po' da questo settore, è una cosa che abbiamo già visto e rivisto, è ciclico, succede spessissimo e dicevo oggi in Academy, in analisi che abbiamo fatto, che questa configurazione proprio a livello grafico, questa noia assomiglia tantissimo ad un anno fa, quando effettivamente ci ritrovavamo più o meno in una situazione molto simile, adesso ve la faccio vedere anche a livello grafico, dove in effetti Bitcoin per praticamente coincidenza vuole proprio questo periodo da aprile praticamente fino all'autunno, perché poi la situazione si è sbloccata poi qui verso ottobre, è rimasto in questa mega fascia di congestione, prima in un canale discendente che poi è riuscito a rompere dopo praticamente tre mesi, perché parliamo di metà giugno verso la fine di giugno e poi comunque è rimasto in una fase di congestione incredibilmente noiosa anche in questo punto per tutta l'estate e poi appunto siamo arrivati all'autunno, notizie degli ETF e da qui siamo poi partiti per il boom market. E quello che dicevo appunto è che in questa fase, per quanto sia stata estremamente noiosa, tra l'altro questo è stato proprio il periodo aprile 2023, il periodo in cui sono nati i wallet dell'Academy, il periodo in cui abbiamo dato vita alla Deserve Academy, abbiamo creato il nostro brand, abbiamo iniziato con i primi, pochissimi sostenitori a costruire i nostri wallet. Mi ricordo che eravamo in 10, non so se hai memoria di quei momenti, quando partimmo proprio all'avventura di fare condivisione, di fare formazione, di creare appunto dei wallet che poi avremmo portato avanti per tutto il ciclo, eravamo solo in 10, oggi siamo in 120, quindi immaginate che strada che abbiamo fatto in un anno, e mi ricordo che era esattamente uguale, non c'era entusiasmo, nessuno parlava di bitcoin, c'erano sempre i soliti, si facevano poche views, l'interesse era ai minimi storici e noi ci chiedevamo, ma com'è possibile che la gente stia ignorando una delle più grandi opportunità della storia e non si renda conto di che cosa sta passando sotto i loro occhi? Quindi a volte ci sentiamo anche noi, facciamo noi la domanda stessa, almeno io me la pongo, non so se tu te la poni, ma non è che stiamo sbagliando noi, non l'abbiamo capito niente, siamo degli illusi di questo settore. Intanto ciao ragazzi che state iniziando a connettervi, Marco Bulgarelli io c'ero, grande, è vero, tu c'eri, forse sei arrivato un pochino dopo anche tu. Ma a te capita di chiederti, non è che stiamo sbagliando tutto, non è che, oppure sei super focus, sei super confident, e poi puntualmente i risultati ragazzi parlano chiaro, perché le performance che noi abbiamo fatto, anche io personalmente, da qui in poi, sono performance pazzesche. Non avrei fatto in nessun altro modo, investendo in nessun altro settore, le performance che abbiamo fatto, poi qua stavamo parlando che Bitcoin stava a 30.000 dollari, che ha ritestato questa resistenza e poi siamo scesi addirittura a 25, mi ricordo benissimo che qua si parlava di un Bitcoin che doveva andare a 9.000, 10.000 e così via, e poi invece è partito e siamo andati oltre i 70.000 dollari. Su Bitcoin, immaginatevi che cosa è successo sull'Hellcoin. Nel senso che a livello generale, quindi per quanto riguarda il mercato cripto e la visione che ho sul mercato cripto, non ho dubbi su quella. Il dubbio ogni tanto può sorgere nel momento in cui magari uno inizia a pensare, bah sarà come è stato lo scorso ciclo, quindi avremo una burram con le solite tempistiche, le solite dinamiche, le solite performance, insomma tutte queste cose sì, qualche domanda, qualche dubbio ogni tanto sorge, però sulla bontà del mercato cripto, sull'interesse, sul potenziale è questo ormai non qualcosa che succedeva agli scorsi cicli, sicuramente nel 2017, e che pensavo è possibile che sia così troppo facile. Uno per esempio vedo che soprattutto negli ultimi giorni, negli ultimi settimane, sta sollevando parecchi dubbi sul fatto che ci sarà, avremo o non avremo un alt season in questo ciclo. È vero che sempre più persone, ultimamente probabilmente sempre più scoraggiate, giustamente, perché il mercato sta annoiando non poche persone, sempre più persone stanno sollevando questo problema, stanno avendo questo dubbio, perché effettivamente l'alt season storicamente arriva nel momento in cui Bitcoin rompe con forza i massimi precedenti, questo non è ancora successo, quindi in teoria siamo ancora in linea con gli scorsi cicli, però non c'è stato ancora nemmeno quello, in realtà c'è stato, però forse c'è un po' di pessimismo distribuito, quel frangente in cui qualche nicchia performava, un po' come la DeFi nell'estate del 2020, tra l'altro era comunque post-Halving, noi abbiamo appena passato l'Halving, quindi abbiamo ancora spazio, abbiamo ancora tempo, ecco, però c'è ancora un po' di pessimismo secondo me sull'Halcoin in questo ciclo e quindi qualcuno, non pochi, hanno dei dubbi più che altro su questo tipo di cosa. Sì, secondo me quelli che hanno dei dubbi sono coloro che si sono esposti probabilmente sull'Halcoin sbagliate durante tutto il 2023, ce ne sono tantissime, ne stavamo guardando, proprio oggi abbiamo ribilanciato un po' i wallet dell'Academy e abbiamo notato come alcuni degli asset hanno performato di più, altri hanno performato di meno, ma il compartimento che poi alla fine è quello che ha fatto veramente le performance maggiori, esattamente come mi aspettavo e come mi aspetto che accadrà ancora nella continuazione di questo ciclo, è ovviamente il wallet del futuro, il wallet che racchiude gli asset a IRWA, quello è stato il wallet che in meno tempo ha performato di più. Quindi chi si è, diciamo, esposto sull'Halcoin sbagliate, prendo per esempio una Cardano, una Ripple, una Dot, una Matic e tante altre, magari oggi si ritrova a chiedersi, cavolo, ma ci sarà mai un alt season? Guardate che l'alt season un pelo c'è stata, non c'è stata l'alt season come negli scorsi cicli, ma dobbiamo anche pensare che intanto il mercato è cresciuto, quindi ci sono un'infinità di halcoin in più e quindi è molto improbabile che ci sarà una stessa identical season come l'abbiamo vista nei precedenti cicli e immaginatevi anche solo le meme coin, parlavamo prima di Emanu, di Pepe, Shiba, cioè quando lo scorso ciclo c'è stato l'avvento di Shiba Inu, c'era solamente Dogecoin come meme coin riconosciuta, come meme coin reale, oggi abbiamo Pepe, Shiba Inu, Dogecoin, il cane col cappello, Flochi, Slurf, ce n'è una per ogni blockchain, una per ogni... e quindi capite che i soldi poi alla fine ragazzi sono quelli, cioè si distribuiscono, si inaumenteranno di più, arriveranno più soldi, ma considerate che chi compra le meme coin non è BlackRock, ok? Quindi sono sempre i soliti retail che cercano di arricchirsi in breve tempo e quindi alla fine parliamo sempre di capitali più o meno limitati che devono essere distribuiti e più asset ci sono, più è difficile capire su che cosa andarsi ad esporre. Quindi come al solito non è mai stato così forte, così importante, così imperativo il discorso della formazione, di capire su che cosa andarsi ad esporre per massimizzare il rapporto rischio-rendimento, anche perché non ha molto senso esporsi su un altcoin se poi questo altcoin performa molto meno di bitcoin o performa come una qualsiasi stock, cioè io ragazzi vi ho sempre detto, se metto soldi su questo mercato è perché voglio fare tanti soldi, se no non entro in questo mercato, non vado a rischiare il mio capitale per un 20%, non mi interessa assolutamente, quelle sono cose che non mi interessano, altrimenti andrei su un altro tipo di mercato molto più stabile, su cui è anche molto più facile riconoscere dei fondamentali, dove c'è molta meno manipolazione, dove ci sono molti più soldi, molto più liquido e opererei in quel modo lì. Se si entra su questo mercato bisogna entrarci secondo me con la giusta prerogativa e l'unica prerogativa secondo me valida al di fuori di bitcoin è il fatto di rendersi conto che sono tutte shitcoin che ci servono per al massimo aumentare la nostra detenzione di bitcoin. Questo è lo scopo finale, ultimo, che dovremmo avere con tutti i nostri wallet. Se non vi va bene bitcoin, fatelo in dollari, fatelo come vi pare, ma fatelo in questo modo qua. Questo è il consiglio che vi voglio dare. Ora, volevo un attimino commentare con voi, mi sono messo appunto nel top del grafico dello scorso ciclo, del 2021, perché volevo farvi notare una cosa. Alcuni dicono, come anch'io in questo titolo un po' aggressivo, dico è la fine, è l'inizio della fine, proprio perché siamo arrivati all'inizio di quello che potrebbe essere un bear market. Beh, ragazzi, però guardate che quando è cominciato, quando cominciano i bear market, di solito ci sono delle, quando finiscono i bear market, di solito ci sono delle, dei pattern che si ripetono. E uno di questi pattern è il fatto, è per esempio l'ampiezza delle candele. Quindi quando bitcoin tende a fare una fase di distribuzione e poi va a rompere, va giù violento. Cioè qui abbiamo candele che in una sola giornata hanno fatto, vabbè qua, ora non riesco a farlo vedere, comunque un meno 30% in questo caso. Praticamente un meno 25%. Poi abbiamo una continuazione, un dead cat bounce, ma comunque sempre con volumi, vedete, molto partecipati, con degli spike molto alti. Mentre adesso siamo proprio nella fase opposta, siamo nella fase di assoluta noia, dove nessuno si interessa più del mercato. Ecco, è sparito il grafico. Niente, è comparso il grafico. Vabbè. Dove nessuno si interessa più del mercato e soprattutto c'è una fase di accumulazione, che abbiamo già visto più volte. Adesso ho preso questo tweet perché Mauro Caimi lo ha, diciamo, rifatto rivedere, ma noi ne abbiamo già parlato in realtà da diverse settimane, di come i wallet delle balene sono aumentati e non solo stanno aumentando, ma stanno aumentando anche la loro detenzione di bitcoin. Periodo di accumulazione esattamente come l'anno scorso, dice Fabri. Esatto. Io la penso allo stesso modo. Cioè, questa fase di noia è in realtà la migliore fase per avvicinarsi a questo mercato. E lo stanno facendo in silenzio, le whale, lo stanno facendo, ragazzi. I grandi investitori che detengono da 1.000 a 10.000 bitcoin nelle ultime 24 ore hanno accumulato più di 941 milioni di dollari. e il mercato è zitto, è silente, è smorto, è noioso, è palloso. Siamo in 35 connessi qui adesso e ancora una volta quindi io mi chiedo ma com'è possibile che la gente non l'ha ancora capito dopo tutto questo tempo? Comunque di possibilità ne abbiamo, cioè di cicli, ragazzi, ce ne sono stati, cioè questo è il terzo ciclo che stiamo vedendo le stesse identiche cose se non prendiamo in realtà è il quarto ciclo però non vogliamo prendere il primo perché ok eravamo ancora agli albori ma dal 2017 ad oggi le occasioni ce ne sono state eppure siamo ancora in una fase in cui solamente gli smart money si muovono in quella direzione tutti gli altri continuano a fare sempre in perterriti gli stessi errori io rimango a volte senza senza parole secondo te perché la vedi come me sei d'accordo su quello che ho detto intanto perché magari la vedi diversamente ma c'è un motivo per cui perché la gente ancora non è interessata a questo mercato e si interessa solo quando si va in all time high ah ok quindi stai dicendo però che si ti stai riferendo comunque alla nicchia di persone che non sono interessate ora ma poi si interessano perché pensavo intendessi insomma le persone che non si interessano proprio e ignorano ma in generale io in generale non capisco come sia possibile che esattamente come è successo un anno fa abbiamo una grandissima opportunità una grandissima fase cioè io adesso se io fai finta che ho dimenticato che cosa sono le cripto non è però sarebbe proprio in questo momento che inizierei ad interessarmi con bitcoin che sta comunque ai massimi con gli etf che si stanno muovendo grandi aziende banche cioè sta succedendo di tutto eppure no continuiamo anche ieri ero per esempio ospite sul canale di smettere di lavorare e c'era tantissima gente che ancora diceva le solite frasi che si dicono da sempre bitcoin è una truffa bitcoin è un ponzi anche i tulipani cioè veramente delle robe che io rimanevo diciamo ma non è possibile che nel 2024 ancora siamo a questi livelli boh allora intanto intanto ce la considerare che la stragrande la stragrande sì alla fine la stragrande maggior parte la stragrande maggioranza delle persone cioè per appassionarsi no in un certo settore che sia il mondo delle cripto ma sia magari il mercato tradizionale gli investimenti in generale bisogna comunque avere dentro quella quella fiammetta no che ti spinge a dire bah fammi un attimo innanzitutto interessare fammi uscire dalla mia pigrizza dalla mia quotidianità la mia routine classica e fammi interessare un certo tipo di cosa perché sembra interessante intanto devi non essere pigro ok quindi devi un attimo interessarti e poi deve avere quella spinta che non tutti hanno quella spinta dentro che ti fa dire ma cavolo ma perché no cioè comunque un'opportunità un'occasione fammi almeno provare no e non è da tutti perché la stragrande maggioranza delle persone si trova nella cosiddetta comfort zone e sta benissimo così cioè le persone stanno benissimo si fanno le loro otto ore di lavoro al lavoro in azienda o dove lavorano tornano a casa magari si aprono un frigo si prendono una birra si guardano la partita si guardano il telegiornale si guardano il gioco a quiz in televisione va benissimo tutto cioè non dico che è sbagliato semplicemente la maggior parte delle persone ha questo tipo di routine e ha questo tipo di comfort zone da cui è difficile poi tirarsi fuori anche perché una persona può non essere tranquillamente interessata molto semplicemente perché sta bene con il suo stipendio riesce a garantirsi i viaggi durante l'anno riesce a garantirsi uno stile di vita che secondo lui è accettabile riesce a garantirsi un'auto che gli piace insomma tutta una serie di cose per cui non prova interesse poi invece a cercare di incrementare il proprio patrimonio il proprio tenore di vita e poi c'è una piccola parte di persone invece che secondo me quelle sono sono gambler insomma sotto sotto sono gambler ok sono sono diciamo dei gambler nascosti mascherati che sono quelle persone che sono pigre però poi quando vedono tra virgolette guadagni facili allora arrivano allora ci si buttano e quelle sono le persone che poi arrivano quando poi il mercato è già surriscaldato quindi quella parte lì è caratterizzata da questo tipo di persone secondo me con una forte propensione al gambling e al gioco d'azzardo mentre tutte le altre persone che proprio ignorano questo fenomeno e magari lo etichettano negativamente per rafforzare la propria tesi insomma io ho il mio lavoro quello mi basta mi va bene così che alla fine la maggior parte delle persone che proprio non provano interesse in questo mercato e credo che sia normale forse anche giusto così insomma perché poi chi è che decide cosa è normale che cosa è non normale alla fine la maggior parte delle persone quello che fanno la maggior parte delle persone tendenzialmente è un qualcosa di normale quindi alla fine vederlo anche in questo modo cioè vedere che comunque non sei l'unico che non investe in crypto la maggior parte delle persone non lo fa tra virgolette diciamo ti rassicura anche no in più c'è da dire che oltretutto non siamo abituati a questo tipo di cosa noi soprattutto in Italia siamo abituati a risparmiare ma non siamo abituati addestrati all'investimento comunque all'interessarsi nell'accrescere il proprio patrimonio e il proprio tenore di vita questo sin da quando nasciamo praticamente cioè siamo improntati per il risparmio e non per l'investimento certo certo la cosa interessante se non l'avete vista io vi consiglio di andare a vedere la live che ho fatto ieri con Smettere di Lavorare e altri due ragazzi tra cui uno era anche un consulente finanziario tradizionale quindi uno di quelli classici insomma che troviamo ed erano un po' diciamo molto molto scettici ancora sul discorso bitcoin sul discorso cripto c'è stato anche questo piccolo dibattito in cui loro asserivano quasi che investire in cripto fosse gambling e io cercavo di fargli capire no non è gambling è un momento in cui una persona si interessa al mercato con una strategia cioè allora anche loro sono gambling le ballene di bitcoin che accumulano un miliardo in 24 ore cosa sono? sono gambler sono Filippo Champagne non penso ci sono fondi ci sono istituzioni ci sono aziende che si stanno interessando a questo mercato e ragazzi non sono consigli finanziari questo devo dirlo ma è sicuramente per quanto mi riguarda un'occasione incredibile cioè ragazzi interessarsi ad oggi a questo mercato con tutte le informazioni che si hanno a disposizione gratuitamente e non gratuitamente perché ci sono poi è pieno di servizi come il nostro in academy che aiutano le persone che vogliono essere guidate che aiutano le persone che vogliono capire di più che lavorano e non hanno il tempo di poter approfondire quindi hanno bisogno di un filtro di una guida hanno bisogno di un coach di un mentor e noi diamo proprio questo ma se uno lo vuole fare anche gratuitamente è pieno anche di servizi anche noi stessi online ora stiamo qua a parlarne gratis è pieno di informazioni come si cioè non lasciate non lasciatevi condizionare dall'emozione e basta dal fatto che che palle bitcoin non si muove sono due mesi che lateralizza sta crollando bitcoin sta a 62 mila dollari ad oggi ragazzi ho già più grafico non ho andato grazie a tutti